Mattina presto, lasciamo Cittadella con la vista, le uniche persone svegliate oltre a noi sono quelli della polizia urbana e usciamo diretti a Camisano Vicentino, a rapporto sud di Cittadella il nostro canale è un'enorme bar di storia locale all'aria aperta molto bello il nostro nostro appartamento il problema è che nella piazzetta della movida per il livornese è un po come effetto venezia ma senza le urla delle ragazze ubriache tutto lì una delle cose che mi piacciono di più del mattino è il silenzio reale quando cammini a città addormentata se solo tu sono i tuoi passi i passi di chi ti cammina accanto e poi ti passa un ciclista con la cassa bluetooth e non capì ma perché? goditi il silenzio è così difficile trovare il silenzio c'è un allarme inserito non lo so pesca sportiva alle sorgenti noi ci stiamo avvicinando al brenta comunque prima prima pausa della giornata siamo a cogno dove c'è questa chiesa non arrivi inserito i pomodori da sugo e i fagioli ma soprattutto la prima fontanella della giornata e dopo tanti giorni e funziona la prima fontanella funzionante mamma guarda una fontanella che funziona ma per sigara con le macine del mulino hanno fatto una cappelletta vedete la base della cappella del sant'antonio credo da padova è stata fatta con le macine del mulino di smesso questo è il mulino di persigara questo qua dietro il mulino di persigara è stato fatta con le macchine del mulino di persigara e poi mi immagino ho scaricato il grano questi sono tutti alberi di kiwi ci sono già i frutti potete vedere però è decisamente presto sembrano grossi ma in realtà questi vanno raccolti molto più in avanti per cui penso che se anche graziano passassi di qua li lascerebbe stare anche Sara ecco finalmente il brenta c'era nascosto nascosto tutti gli alberi è timido qui qui al campo san marchino possiamo vedere finalmente un po' meglio il brenta molto tranquillo con uscire un po' anche questo qua molto tranquillo con uscire un po' anche questo qua più di quattordici chilometri sull'asfalto integralmente sull'asfalto questa è la prima il primo pezzo non asfaltato che percorriamo speriamo che ci siano degli altri oggi ci stiamo prestando ad attraversare il brenta qui la fleccina del cammino eccoci qua sul brenta piazzola sul brenta città natale di mantegna che però appena la potè scappò e andò a milano che lo vistarono in naviglia fa serata e c'erano c'è nascosto eh sì che diceva che c'era troppo asfalto queste parti allora prefetto andare a milano che è più verde Villa Contarini 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 Un po' d'ombra che non fa mai male Siamo curiosi di vedere come sarà questo lungo percorso dritto che si porterà verso Camisano vediamo se tra campi o se asfaltato vediamo insomma siamo in attesa vedo dell'ombra guarda da non girare a destra incrocio le ditine incrocio le ditine allora noi possiamo andare dritti di qui per sei chilometri e mezzo se è vabbè è asfaltato però è all'ombra è mezzo al verde per cui è è gradito vediamo quanto dura siamo di nuovo sulla ciclovia Treviso Stiglia in un tratto che non c'era fatta come potete vedere però fa piacere ritrovarla vediamo un po' ok come potete vedere qui l'ombra finisce qui c'è un pezzo di sole adesso noi corriamo fortissimo dove c'è il sole e arriviamo all'altra ombra facciamo questo gioco come se fosse lava certo certo vai tu vai avanti vai vai corri corri vai 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 mi ragiono ci sono queste pacevoli aree di sosta all'ombra dove puoi attendere la pellegrina che si è attardata oh via andiamo queste cicale sono incredibili non so se quello che va dietro è beva d'oro non so se si beve bene lì davanti a noi dovessici campo d'oro una stazione abbandonata questa è l'ex stazione di campo d'oro e quello che abbiamo scambiato per la fontanella probabilmente è un lavandino abbandonato vediamo un po' pannaggia no magari l'hanno resistemato come fontanella no è un lavandino abbandonato lavandino abbandonato vabbè con la spugnetta con la spugnetta non so se c'è una piquenica dietro non si capisce vabbè questa è l'ex stazione di campo d'oro ok stiamo lasciando la provincia di Padova quindi di là attraverso di Vicenza la provincia di Vicenza da qua stiamo calcando suolo vicentino provincia di Vicenza sono gli ultimi metri sullo Stiglia per noi ecco questo è il fiume Ceresone e per noi segna anche la fine dell'Ostiglia perché poi giriamo a destra a destra hai visto la panchina all'ombra? va bene va bene facciamo una breve pausa poco che non terminavamo una tappa camminando sull'argine di un fiume col sole a picco ti è mancata un po' questa nostra tradizione? vabbè questo è il Ceresone e a noi mancano 4 km per la fine tappa e la maggior parte li percorreremo qui sull'argine se non altro è verde c'è anche dello sterrato che si può voler di più? l'ombra? quello là in fondo è il camisano vicentino non manca più molto qui ci sarebbero lasciare l'argine perché è inervito è inervito lo Grazie per la visione!